Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Riportiamo la profile Horus perché voglio condividere con voi sia la profile che voglio fare Sia un'altra cosina che credo che noterete tranquillamente Parto con la premessa che è una lista che punta molto sull'essere budget Tralasciando l'extra deck ma ora vi spiego perché è una lista che io vorrei fare real Se gli supporti Horus non mi costano tantissimo Quindi ho optato per utilizzare le carte che avrei usato Che vorrei utilizzare potenzialmente in cartaceo Tralasciando sempre l'extra deck Quindi ho fatto una sorta di Horus anche leggermente for fun Che comunque fa qualcosina Prima di iniziare come sempre ragazzi invito a iscrivervi al nostro canale Per mettere sempre a giocare col mondo di Yugi Mi raccomando ragazzi è importantissimo l'iscrizione ci aiuta veramente tantissimo Grazie mille detto questo partiamo 3 per Inseti Gloria of Horus fortissimo perché ci permette di prendere la nostra carta magia continua Mandando lui un'altra carta dalla mano al cimitero Buono perché fondamentalmente ti vai a mandare via gli altri Horus E in più ci permette di pescare una carta dalla deck Quindi molto forte si evoca se abbiamo il sarcofago Se una carta poi ci lascia il terreno a causa dell'effetto dell'avversario Possiamo mandare una carta dal terreno al cimitero Ogni Horus ha un effetto praticamente simile Poi il nuovo Horus The Black Flame Deity Fortissimo perché se una carta Se un mostro Horus Ci lascia il terreno oltre a lui Se un King Sarcofago scoperto E oppure un Horus che controlliamo oltre lui Lasciano il terreno a causa dell'effetto dell'avversario Le vogliamo e mandiamo tutto il resto Tutti gli altri mostri dal terreno Al cimitero Veramente fortissimo perché Fa piazza pulita tanto i nostri Horus Noi li ricaliamo assolutamente tutti quanti Poi se controlliamo un Horus e un King Sarcofago Possiamo rivelare questa carta dalla mano A mandare una carta dalla mano O terreno al cimitero Per mandare una carta dal terreno al cimitero Quindi tanta roba Poi abbiamo Aegis Anche esso si evoca dal cimitero Se una carta ci lascia il terreno a causa dell'effetto dell'avversario L'avversario non può targettare i nostri Horus con gli attacchi E neanche per gli effetti Quindi Molto buono Poi abbiamo lui che ci recicla molto le carte Fortissimo E poi Duamutef che ci permette di pescare un numero incredibile di carte Si pompa di 1200 per ogni altro Horus Arriva a un totale di 6000 d'attacco Tanta roba Triple Ash è uno Slifer Perché con la trappolina ci fa pescare avviene a 6 Mi pareva carino Poi 3 per di trading e 3 per di extravagance Come peschini Perché? Ma sei scemo Se tu usi extravagance Non devi usare trading Ma in realtà dipende Perché delle volte se c'hai extravagance Subito da poter attivare È buona È molto utile Al limite te lo mandi via con insetti Quindi ci sta E poi trading ci fa scartare e pescare Anche se ci arriva Ash Ma noi magari già abbiamo il sarcofago Non è così deleterio Sì è un po' rischioso Ovviamente Assolutamente Però insomma Thunder Force Attack Anche esso Tanto dal limite possiamo mandarlo via con le carte magia continua O in seti Triple Pharaonic Sarcophagus Il triplo La tripla terreno Il nome diventa sempre King Sarcophagus Quindi possiamo rievogarci i nostri Horus dal cimitero Durante la main phase possiamo aggiungere un Horus dal deck alla mano E poi piazzare una carta dalla mano in fondo al mazzo Quando attiviamo l'effetto di Horus The Black Flaming Delta Possiamo pescare una carta 1 per Dicoled 3 per Impermanence 3 per Canopic Protector Che è fortissimo Ogni volta l'avversario attiva l'effetto di una carta Possiamo guare specialmente un Horus dalla mano al cimitero È enorme Se viene mandata la mano al cimitero possiamo settarla Ma la bandiamo quando lascia il terreno Per concludere Un Reviled Sky God Perché possiamo attivarla senza l'avversario Ce l'ha nulli E vogliamo specialmente uno Slifer dal cimitero Peschiamo fino ad avere 6 carte in mano Sia noi che l'avversario E in realtà è molto forte Ci sono diverse liste che utilizzano più Slifer Però io preferisco avere gli Horus E magari uno Slifer in più È una cosa che mi piace È una lista molto molto personale Assolutamente molto personale Poi l'Extra Deck in realtà Qui ovviamente per fare i test Mai usato eh Mai usato Però per fare i test E fare la profile Ho messo delle carte un po' più credibili Anche se lo zomista In realtà lo vorrei Soltanto perché sembra un mezzo faraone E... Quindi sono queste qui Poi come potete vedere Perché avevo provato anche a fare 2 3 per 3 per No non si può fare Comunque io l'Extra Deck Lo metterò Con tutte le carte un po' a caso Perché io voglio giocare esclusivamente a queste qua È una profile molto molto personale E anche un po' di prova Per testare un po' tutto Detto questo ragazzi Fatemi sapere cosa pensate ovviamente Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti Grazie 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 a tutti